segui la 7 anche su instagram la 7 ovunque con te è lenta ma alla fine a volte ci azzecca come nel caso del caricabatterie caro rizzo che tu sfotti ma è stata un enorme vittoria l'europa contro la apple una potenza mondiale sono anni che combattiamo quella battaglia hai mai provato andare a comprare un caricabatteria apple a prezzi di estruzione guarda vorrei vorrei che le multinazionali pagassero le tasse sarebbe una vittoria un po più grande di quello del caricabatterie non solo doveroso ma bisogna assolutamente ottenere questo risultato e quindi benissimo l'ecologia però dobbiamo pensare alla concretezza non possiamo morire di verde sì dobbiamo vivere crescere svilupparci e poi pensare certamente al pianeta adesso viviamo di carbone sono tornati al carbone e poi si dice auto elettriche per forza il 35 non ha senso allora facciamo così adesso poi e Grazie.